Entriamo nelle festività natalizie. Abbiamo a che fare con due varianti altamente trasmissibili, Omicron e Delta del Covid, con il potenziale di sopraffare i nostri sistemi sanitari già sovraccarichi. Ma questo non deve essere un bis dell'anno scorso, ha reso noto il direttore dell'OMS Europa, Hans-Henri Klug, rivolgendosi ai cittadini dell'Europa e dell'Asa Centrale e chiedendo cautela durante le festività natalizie, tanti strumenti che abbiamo tutti in questa regione del mondo a disposizione. In primo luogo, farsi vaccinare il prima possibile con una serie completa delle dosi. I vaccini rimangono il modo migliore per prevenire malattie gravi e morte anche con l'arrivo della variante Omicron. Se qualcuno ha intenzioni di partecipare a riunioni sociali con amici e familiari, mantenere un numero basso di partecipanti e, se possibile, fare un test per dimostrare di non essere contagiosi. E poi evitare luoghi affollati o ristretti, indossare una mascherina ben aderente, rispettare la distanza fisica di almeno un metro, areare gli spazi interni aprendo finestre e o porte, mantenere le mani pulite, cercare fonti di informazioni affidabili che forniscano consigli basati sulle prove più recenti e sulla scienza.